eccoci qua allora buonasera natalino buonasera grazie buonasera a tutti voi sono veramente felice di essere qui dopo essere stato presente invitato nel 2018 giusto se non sbaglio nella prima edizione e quindi è davvero emozionante tornare qui e vedere che il festival cresce più bello che mai si natalino infatti è stato natalino russo è stato è arrivato oggi da roma con un treno che ha fatto peraltro quasi due ore di ritardo per cui è eroico un applauso non a piedi si allora innanzitutto la prima volta natalino russo è venuto al festival in veste di scrittore il suo libro era l'italia è un sentiero che secondo me è un titolo bellissimo perché evoca questo orizzonte familiare di cammino tutto da scoprire ma tutto sommato anche riconoscibile perché si parla dell'italia e c'è dentro insomma come una memoria di passi che ho trovato piacevole anche da leggere e ti fa venire voglia un po di mettere le scarpe lo zainetto e di partire di seguire le sue indicazioni però invece questa volta natalino russo viene al festival come fotografo e però c'è da dire che lui è tante cose è scrittore camminatore speleologo fotografo la sua biografia è talmente ampia che io direi se vuoi dirci qualcosa di come tu tieni insieme tutte queste passioni e come hai fatto a farle coincidere col tuo lavoro che questa è una roba bella beh allora è complicato nel senso che più che come faccio a tenere insieme tutte queste cose come faccio a sopravvivere al fatto di essere ostaggio di tutte queste passioni forse che mi hanno catturato fin da quando ero bambino io ho avuto la fortuna di crescere una famiglia con due genitori insegnanti molto attivi viaggiatori appassionati di viaggi un po sgangherati partivamo con un furgoncino auto siamo camperizzato in maniera artigianale e quindi fino ai miei 18 19 anni abbiamo viaggiato in tutta l'europa così genitori insegnanti quindi non eravamo non siamo mai stati ricchi ma avevamo quei due mesi d'estate liberi e facevamo un po questi viaggi zingareschi in giro per l'europa e mi ricordo che già quando avevo intorno ai 13 anni 14 anni mio padre mi mise in mano la sua macchina fotografica e disse tutto come tu pensa alla parte fotografica quindi diciamo fu investito di questo compito di documentarista dei famiglia dei viaggi di famiglia se riguardo le diapositive di quegli anni mi fanno molta tenerezza ovviamente però fu una palestra molto molto utile perché cominciai così a confrontarmi a misurarmi con con la fotografia pensata come uno strumento per raccontare poi quando avevo vent'anni feci con un con due amici un viaggio in bicicletta nell'isola di creta e in quell'occasione scattai delle foto ovviamente del viaggio e al ritorno pensammo di di proporle a una rivista di viaggi che si chiamava cicloturismo non so se esiste ancora forse non più ce le acquistarono me le acquistarono e con quei soldi ci paghiamo ci paghiamo tutte e tre il nostro viaggio a creta allora lì mi si accese un po la lampadina pensai vuoi vedere che magari può diventare un lavoro nel frattempo mi ero iscritta all'università io ho studiato scienze naturali quindi mi sono dedicato in quegli anni lì a studiare scienze naturali però ogni tanto pubblicavo qualcosa facevo un servizio su procida uno di quegli anni proprio sul matese di cui parleremo stasera quindi poco a poco dopo la laurea ho pensato vabbè io voglio fare questo per mestiere no e quindi negli anni alla fine degli anni 90 quando ahimè l'editoria stava ancora ancora funzionava l'editoria classica della carta stampata era sull'orlo della crisi che poi è arrivata poco dopo io ho cominciato a fare questo mestiere e poi mi sono trovato in affanno a inseguire modi nuovi per sopravvivere in un mercato editoriale che è molto in crisi quindi diciamo che il mio lavoro è partito bene all'inizio degli anni 2000 e poi dopo subito ha conosciuto la crisi dell'editoria fino alla crisi del 2008 e poi dopo tu dici come fai a sopravvivere con questo mestiere me lo chiedo anch'io non lo so però più o meno tra scrittura e fotografia riesco a mettere insieme come si dice il pranzo con la cena allora noi avremmo pensato a possiamo proporlo adesso nel gioco allora c'è un prima di entrare nel merito proprio dell'incontro c'è una cosa che a natalino russo piace fare sui social se lo seguite lui posta delle foto degli scatti che fa e chiede alle persone di dare un titolo e vengono fuori delle cose carine vengono fuori delle cose ironiche vengono fuori delle cose invece più poetiche dipende e questo gioco noi lo vogliamo proporre a voi che siete qui queste tre foto che adesso tra un po' vedrete sono state scelte da lui e arrivano anche dalla sua mostra per cui poi potrete vedere il titolo che invece ha dato direttamente l'autore ma non tanto per fare un confronto giusto per vedere che cosa suscitano queste immagini vi stanno distribuendo dei foglietti vi danno un foglietto vi danno una penna voi guardate le foto pensateci ma non troppo insomma no bisogna anche lasciare un po' andare alla propria impressione cominciamo aspetta quando tutti hanno il foglietto anche anche quelli fuori brava poi naturalmente li condivideremo questi titoli e cioè vogliamo vedere che cosa viene fuori dunque quest'idea di grazia a me piace molto perché questo gioco che faccio sui miei social mi diverte molto e mi arricchisce soprattutto perché io in genere non do un titolo alle foto preferisco lo vedrete anche nella mostra dopo facciamo due passi insieme nella mostra se vi va preferisco indicare semplicemente il luogo dove è stata scattata la foto e al massimo l'anno dello scatto preferisco poi lasciare l'osservatore alla fantasia all'immaginazione dell'osservatore scavare dentro il proprio immaginario e cercare dei titoli quindi quando lo faccio questo gioco vengono fuori delle cose alle quali spesso non avevo neanche pensato per cui prima o poi magari dovrei fare una raccolta di tutte le foto con tutti i titoli che mi sono stati proposti che ormai cominciano ad essere decine dunque questa è la prima fotografia una delle foto che ci sono quanto tempo gli diamo per guardare le foto? pochi minuti pochi minuti ok allora mentre le foto vanno avanti noi magari intanto possiamo continuare a parlare voi lasciamo ecco un po' di minuti le foto e poi facciamo girare sono tre fotografie in tutto allora continuiamo il nostro racconto io direi di cominciare a parlare dal cammino il cammino è una questa pratica del camminare perché ha dentro di sé molti aspetti significativi è stata la prima forma di geografia come diceva Natalino come scriveva su un suo libro territori vastissimi furono misurati in passi in ore e giorni di percorrenza l'andata e il ritorno dalla montagna alla valle in inverno dalla valle alla montagna in estate da nord a sud da sud a nord con l'alternarsi delle stagioni ecco questa esplorazione fatta di passi ha dentro di sé anche un'idea di lentezza e cito nuovamente le sue parole perché mi hanno colpito il camminare non è una vezzosa pratica vintage ma andare a piedi amplifica la percezione per chi cammina il mondo è immensamente più grande ma anche più a portata di mano lentezza come metodo e non come ideologia siccome mi ha colpito molto volevo che tu parlassi di questo aspetto anche perché probabilmente si collega anche si intreccia in qualche modo al tuo fare fotografia sì quando dico lentezza come metodo e non come ideologia mi riferisco a una cosa ben precisa cioè spesso si sente dire da nel nostro chiamiamolo così giro di amanti della natura della montagna e della lentezza che la tecnologia è la nostra nemica per cui dovremmo rinunciare alla tecnologia e dedicarci alle cose come si facevano una volta io non penso questo anzi credo che la tecnologia sia nostro alleato ovviamente gestita bene la tecnologia è come il frigo dipende dall'uso che ne fai se lo usi per conservare il cibo va bene se lo usi per colpire le persone che passano per strada lanciandolo come diventa un'arma anche l'automobile, il televisore, lo smartphone e così anche treni, autobus, navi, traghetti, aliscafi eccetera sono tecnologie che ci permettono di affrancarci se ci pensiamo noi camminiamo da sempre è la prima cosa che impariamo a fare forse prima camminiamo e poi diciamo mamma cioè prima cominciamo a gattonare e poi diciamo mamma camminiamo da sempre, da quando esistiamo come specie finalmente la tecnologia ci ha affrancati dal camminare per necessità e ci regala la possibilità di farlo per scelta per cui questa lentezza usata come metodo appunto di esplorazione del mondo e non come ideologia appunto cioè non almeno per come la vedo io non per rinnegare la tecnologia ma per utilizzarla in modo da avere più tempo cioè se noi dovessimo, se io qui ci fossi venuto a piedi non avremmo avuto modo di fare un festival cioè la tecnologia che ci permette di fare queste cose ed è grazie alla tecnologia che io posso andare una settimana a camminare in montagna o una domenica a camminare in montagna perché ho gli strumenti per arrivarci e poi per tornare a casa altrimenti saremmo ancora all'età della pietra non so se ho risposto mi chiedevo come tu dicevi che in qualche modo questa idea della lentezza, del cammino si intreccia anche al fare fotografia al come scegliere sì sì esatto mi ero perso questo pezzo per me è fondamentale perché siccome siccome la mia fotografia è molto focalizzata sulla natura e poi quello che ho studiato e quindi sono gli alberi le piante gli animali i paesaggi e l'interazione tra l'uomo e la natura sono le cose che mi appassionano di più credo che l'unico modo per entrare con uno sguardo fotografico indagatore dentro i luoghi e dentro le storie che le persone intrecciano con i loro luoghi sia farlo a piedi questo sì perché a piedi apro una parentesi per anni io sono stato convinto sostenitore della bicicletta ho fatto tanti viaggi in bicicletta ne ho scritto anche adesso ho fatto un passo indietro rispetto alla bici e credo che è davvero l'unico modo per stabilire relazioni umane e quindi anche fotografiche con le persone sia andare a piedi perché quando vai in bici c'è uno strumento tra te e l'altro che è la bici quando arrivi tu stai con la bici così hai quasi una barriera tra te e l'altro per cui se è vero che la bici ti fa accogliere in maniera benevola praticamente ovunque andare a piedi ti obbliga a stabilire una relazione questo può essere anche una difficoltà può essere anche alla base una difficoltà perché quando vai a piedi tendi ad avvicinarti di più quindi le persone magari si spaventano se invece stai in bicicletta è il mezzo stesso che ti fa stare un po' a distanza quindi ci sono i pro e i contro però per un fotografo secondo me andare a piedi è il modo è il modo per avere delle porte aperte negli ultimi anni mi sto dedicando molto ai cammini adesso si parla un po' spesso anche a sproposito di cammini ma tantissimi ce ne sono sto lavorando anche adesso con un amico carissimo e collega Fabrizio Ardito a nuovi libri sui cammini per il Touring Club italiano e ci siamo accorti entrambi che se vai a piedi nei posti riesci a fotografare di più le persone che sono la parte che mi interessa di più allora visto che il tema di quest'anno è la montagna tu sostieni e cito sempre una delle cose che hai scritto i luoghi privi di strade sono davvero pochi quindi restano le montagne vasti territori di cui l'Italia è piena e che sono il paradiso dei camminatori ecco quando tu cammini per questi paradisi che cosa cerchi qual è la tua idea di bellezza se vai cercando la bellezza anche qui ho fatto ho fatto un percorso nella mia vita prima di naturalista e poi di fotografo prima cercavo i luoghi selvaggi li ho anche trovati in Amazzonia in Islanda in posti sperduti della Norvegia ma man mano che passa il tempo io cerco di più lo ripeto lo dicevo prima cerco di più la relazione con le persone e le relazioni che le persone stabiliscono tra loro per cui dalla mia passione alpina adesso la mia passione si è spostata di più verso la montagna più abitata cioè l'Appennino perché l'Appennino è il luogo di transumanza è una montagna molto più antropizzata delle Alpi e paradossalmente la trovo più la trovo più densa di umanità quindi per me guardandola con un occhio fotografico la trovo persino più interessante cioè tutto il mondo che ruota intorno all'Appennino ma per Appennino intendo anche cioè la dimensione appenninica anche i Balcani ad esempio anche le montagne del centro della Sardegna le montagne abitate le montagne frequentate dalle pecore perché la pecore in questo libro fotografico si ricorre molto questo tema questa chiave la pecore è un po' la chiave per entrare nei luoghi che hanno il carattere appenninico allora proviamo adesso a concentrarci sul Matese allora per prima cosa dove si trova il massiccio del Matese dunque si dice spesso che le montagne fanno la confine tra e la montagna il Matese è una montagna che divide Campania e Molise no il Matese è una montagna che unisce Campania e Molise e si trova a cavallo amministrativamente diciamo così tra le province di Caserta Benevento Isernia e Campobasso quindi è una zona molto vicina a Roma molto vicina a Napoli però misteriosamente rimasta ai margini dei flussi turistici per certi versi un bene per certi versi no si aprirebbe un capitolo troppo complicato da approfondire da sviscerare adesso nel poco tempo che abbiamo a disposizione però fatto sta che una montagna rimasta nell'ombra rimasta ai margini quindi pressoché sconosciuta se in giro per l'Italia parlate di Matese che vuol dire Matese ma questo non solo a 500-600 km di distanza ma anche se lo chiedete a un calabrese a un pugliese pochissimi forse un foggiano sa che cos'è il Matese ma un salentino no ad esempio uno di Salerno boh magari non ha mai sentito parlare del Matese è una montagna alta a 2050 metri nella sua massima elevazione quindi rispetto alle Alpi parliamo di ben poca cosa però è una montagna che ha come dicevo prima un forte carattere antropico ci sono i pastori c'erano i romani ancora prima c'erano i sanniti c'è la transumanza ci sono le città romane e sannite cresciute fondate nei luoghi della transumanza quindi c'è una lunga storia e c'è una storia anche adesso perché lì vivono ancora i pastori lavorano i pastori e andare sul Matese vuol dire incontrare le persone e perdersi anche nelle solitudini delle faggete delle grandi pareti dei canyon delle grotte però soprattutto incontrare le persone ma la domanda era più semplice dov'è il Matese e l'ho detto all'inizio giusto infatti questo aspetto umano viene molto fuori nella mostra che poi andremo a vedere ci sono parecchie foto dove ci sono situazioni di persone dalle parole che dici dalle cose che hai scritto dagli scatti che hai fatto si vede che tu sei decisamente innamorato di questo posto a me sembra che quell'insieme delle foto che tu ci farai poi ci racconterai un po' non ci siano appunto come dicevi tu solamente dei paesaggi ci sono le persone ci sono le attività c'è dentro un senso del tempo ci sono i cambiamenti e quello che invece sembra rimasto immutato e uguale ci sono delle geometrie ci sono delle profondità dei colorinetti delle sfumature ci sono delle emozioni un po' di malinconia ma anche della bella allegria insomma che abbiamo visto la domanda era che un po' vabbè forse hai già in parte risposto cos'è che ti ha chiamato in questo posto tu com'è che l'hai scoperto questo posto c'è qualcosa che ti lega in modo particolare ma innanzitutto questa è la montagna della mia infanzia quindi lì c'è quel mondo perduto che ciascuno di noi si porta dentro che è l'infanzia perché quando da bambino si voleva fare una scampagnata un picnic o una domenica fuori si andava o raramente devo dire al mare sulla costa campana che nel nord è una costa abbastanza brutta forse negli ultimi anni è un po' migliorata ma quando io ero bambino quindi quasi cinque decenni fa era un brutto mare oppure si andava sul Matese anzi da noi si dice a Matese è una cosa un po' strana però si dice vado a Matese non ho mai capito perché quindi facevamo questi picnic a Matese e e io lì ho ho vissuto per la prima volta proprio da bambino da piccolino il contatto con gli animali con l'erba con i boschi con i castagneti con i faggi con i laghi di montagna con i torrenti gli ingressi delle grotte dove si sente l'aria fresca del sottosuolo e dico cito le grotte non a caso perché poi da adolescente mi sono avvicinato alla speleologia e con un gruppo speleologico che tuttora esiste del quale sono socio da più di 30 anni quasi da 35 anni e ho imparato il mondo sotterraneo del Matese quindi il mio legame si è rafforzato queste radici del cielo come le definisce Andrea Gossi Bobetti che è un caro amico speleologo e scrittore cioè il cero che si infila dentro la montagna con le sue radici nelle grotte profondissime di questo Matese alcune grotte come il Pozzo della Neve superano i mille metri di profondità e in tanti anni di speleologia il mio attaccamento al Matese si è rafforzato si è consolidato quindi dentro questa montagna c'è la mia infanzia c'è il freddo il buio delle grotte ci sono cime come appunto il Monte Miletto dove nelle giornate limpide si vede il Tirreno e l'Adriatico contemporaneamente ci sono le nevicate abbondantissime di una montagna che dico ripeto non è molto alta la cima più alta è 2000 metri ma le cime medie sono intorno ai 1400 però è una montagna molto nevosa mi sentirei di dire così come nevose forse negli ultimi anni un po' meno ma ci sono nevicate di tre metri di neve due metri e mezzo di neve perché lì arrivano le correnti direttamente dai Balcani dall'Adriatico quindi è una montagna dal carattere forte di estati aride paesaggi brulli ingialliti e inverni forse neanche rigidi ma umidi carichi di neve come difficilmente capita di vedere in appennino allora questa questa mostra che vedremo è frutto immagino di una selezione o meglio probabilmente di più selezioni perché tra gli scatti che tu probabilmente hai fatto nel corso del tempo e poi la mostra che hai preparato che si trova in modo completo giusto su questo libro e poi invece c'è un'ulteriore selezione che è quella che andremo a vedere come è avvenuta questa selezione sulla base di cosa dunque innanzitutto questo libro e la successiva poi idea di mostra il libro soprattutto è nato durante la pandemia come dicevo il Matese è il mio luogo del cuore per cui ci vado io adesso vivo a Roma non più nella zona del Matese sono originario di lì ma vivo da 20 anni a Roma ma ogni volta che posso torno lì a ricercare le stesse persone a rifotografare i pastori a incontrare persone 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 soprattutto ma anche paesaggi boschi eccetera e nei mesi che hanno preceduto la pandemia chissà perché io mi ero andavo spesso lì ho realizzato molti degli scatti tra il novembre e il febbraio del novembre 19 febbraio 2020 subito dopo è arrivata la pandemia e una piccola banca locale mi ha detto facciamo io era un po' avevo perso i lavori avevo progetti all'estero non ne parliamo è stato un anno drammatico per tutti ma in quell'anno in particolare avevo tutti i lavori all'estero quindi sono rimasto praticamente senza lavoro questa banca ha detto facciamo un libro facciamo una mostra facciamo un calendario quindi mi ha dato diverse idee e durante i mesi della pandemia ho lavorato alla selezione quindi insieme a un carissimo amico che si chiama Salvatore Capasso che ha scritto anche la prefazione Vittoria Biasucci che è la curatrice della mostra abbiamo fatto le due selezioni quella per il libro e quella per la mostra tagliando molto ovviamente e cercando un equilibrio tra natura persone criticità ci sono anche degli scatti che parlano di contrasti ce n'è uno con i generatori eolici che poi magari se andiamo in mostra vi racconto qualcosa i titoli sono pronti è il momento di sentire i titoli fate rivedere le immagini allora l'ultima cosa che volevo capire volevo sentire da te se c'è se c'è qualche situazione in cui ti sei trovato con delle persone le persone che hai conosciuto se c'è qualcosa che porti particolarmente nel cuore di qualche incontro speciale di qualche persona speciale o animale non so è una situazione che tu dici ecco quella cosa lì è in modo particolare il mio il mio matese dunque in questo libro e anche nella mostra ci sono delle foto in particolare ce n'è una nella quale si vedono delle persone anziane che giocano a carte con la birra Peroni in un bar quella è una foto che risale alla fine degli anni 90 è un bar che non c'è più nel senso esiste ma è stato completamente trasformato è diventato un bar più contemporaneo con il menù particolari eccetera era proprio il classico baretto delle persone anziane sul matese si osteria dove ci si andava a fare il panino col caciocavallo mentre fuori nevicava era un posto molto alla buona e quella dimensione lì ovviamente non esiste più io attenzione non sono un nostalgico nel senso che penso sempre che il presente e il futuro siano meglio sempre meglio del passato però quella foto ha dato delle emozioni alle persone cioè quando la vedono i figli di quelle persone si emozionano questo è un aspetto l'altro è quello della speleologia le foto scattate dentro le grotte per me sono hanno un potere evocativo molto forte perché quella è l'anima della montagna ci sono foto scattate a 900 metri di profondità dentro alcune grotte in luoghi veramente remoti dove per andarci serve organizzazione serve serve una pianificazione complessa e molte ore di progressione quindi alcuni di quegli scatti sono di posti lontanissimi adesso che non è anche più il fisico per andarci per me sarebbe più semplice andare in Amazzonia che tornare lì a fare quelle foto quindi per me sono molto importanti e poi boh qualche altro scatto nelle faggete perché per me non so voi per me la faggete è il bosco più bello perché è un bosco pulito un bosco austero un bosco silenzioso dove per silenzio non intendo assenza di rumori ma dove ci sono dei singoli rumori che rendono ancora più percepibile il silenzio come gli scricchioli di alcuni rami che toccano tra loro oppure un picchio grazie grazie a te Natalino beh se ci sono domande gliele fate di là grazie 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 grazie